Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 12.30 del Tg di Telefriuli. Privatizzazione del Trieste Airport presentata una sola offerta per l'acquisto della quota azionaria di maggioranza. Questa mattina alle 11 allo scalo di Ronchi dei Legionari è stata aperta la busta dell'unico candidato che è risultato essere il fondo F2I che controlla il 40% degli scali in Italia. A giugno la gara era andata deserta, confermate dunque le indiscrezioni della vigilia e si è conclusa così la prima fase della gara europea per la cessione del 55% delle quote di aeroporto Friuli Venezia Giulia SPA. Sul mercato la regione Friuli Venezia Giulia ha posto la maggioranza del capitale della società al prezzo di 32,5 milioni di euro a fronte di un valore complessivo della società di circa 70 milioni, secondo i dati del bilancio 2017. La commissione nominata da Aeroporti FWG valuterà quindi l'offerta tecnica ed economica attraverso i criteri definiti nel disciplinare di gara. L'assegnazione della gara potrà avvenire entro gennaio, il closing dell'operazione di cessione del 55% delle quote entro marzo per poi nominare il nuovo CDA e il nuovo amministratore delegato di aeroporto FWG. Il fondo F2I attraverso la controllata 2I aeroporti ha la maggioranza degli aeroporti di Napoli, Torino e Alghero, oltre al 45% di SEA, aeroporti di Linata e Malpensa, attraverso cui ha anche il 30% dell'aeroporto di Bergamo, oltre ad avere una partecipazione del 10% nell'aeroporto di Bologna, attraverso gli aeroporti in cui azionista gestisce circa il 40% dei voli in Italia. Deborah Serracchiani attraverso i social attacca il ministro dell'interno Matteo Salvini sui finti profili che lo seguono in rete, ma viene smentita. Risulta, scrive in un tweet dell'8 gennaio la deputata PD ed ex presidente della regione, che Salvini abbia oltre 306 mila profili falsi che lo seguono. Ministro dei fake. Un'affermazione pesante che non è sfuggita a David Puente, uno dei più famosi cacciatori di buffale in rete, entrato nella squadra del nuovo progetto editoriale di Enrico Mentana, Open. Puente sottolinea come Serracchiani abbia pubblicato nei post, a sostegno della sua affermazione, una ricerca effettuata sui 953 mila follower del ministro dell'interno. Quello che la deputata del PD non sa, spiega Puente, è che effettuando la stessa ricerca sul suo profilo, anche lei avrebbe quasi un terzo dei follower falsi. Una ricerca così superficiale, conclude Puente, non dimostra nulla. Oggi sarebbe il compleanno di Giulio Regeni, 31 anni mancati. Il ricercatore friulano ucciso in Egitto nel 2016 era nato a Trieste il 15 gennaio 1988. La verità sulla sua tragica fine sembra ancora lontana, anche se la procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Avrebbe compiuto 31 anni oggi Giulio Regeni, ricercatore friulano ucciso in Egitto nel 2016. Un figlio del Friuli che voleva conoscere e capire il mondo e che invece trovò la morte in circostanze tragiche e misteriose. La madre, Paola Defendi, da sempre in prima linea per scoprire la verità sulla morte di suo figlio, oggi ha pubblicato su Facebook un post essenziale ed efficace. Caro Giulio, ti hanno rubato la vita, sarebbero 31. Ed è proprio questa mancanza che si avverte, pesante e ingombrante a tutti i livelli. Partito da Fiumicello, ancora minorenne Regeni si trasferì per studiare negli USA e poi nel Regno Unito. Vinse due volte il premio Europa ai Giovani. Il concorso internazionale organizzato dall'Istituto Regionale Studi Europei per le sue ricerche ed approfondimenti sul Medio Oriente. Dopo aver lavorato all'ONU per lo sviluppo industriale e per conto della società Oxford Analytica, nel 2016 Regeni stava conseguendo un dottorato di ricerca all'Università di Cambridge e si trovava in Egitto per svolgere una ricerca sui sindacati indipendenti egiziani quando fu rapito e ucciso. Sulla sua morte non c'è ancora chiarezza, nonostante le continue e insistenti richieste della famiglia e del governo italiano. Ultima in ordine di tempo l'inchiesta aperta appena qualche giorno fa dalla Procura di Roma che indaga sulle pressioni ricevute al Cairo dal consulente egiziano della famiglia Regeni da parte del personale della National Security a cui appartengono alcuni degli ufficiali indagati dai PM Capitolini nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del ricercatore italiano. Ma la verità processuale, se mai si raggiungerà, non aggiunge nulla alla figura di un ragazzo di 28 anni curioso e intelligente, motivato e impegnato che avrebbe continuato a rendere orgogliosi non solo i suoi genitori e gli amici ma che avrebbe potuto rappresentare, come tanti suoi coetanei, la meglio gioventù del Friuli. Ancora fatti di cronaca. Termina la battuta di caccia e dopo aver caricato i cani e gli zaini sull'auto fa rientro a casa. Non si accorge però di aver lasciato appoggiato a un muretto il proprio fucile. A ritrovarlo è un passante che avvisa subito i carabinieri. Sul posto arriva la pattuglia della stazione di Feletto Umberto che dalla matricola risale legittimo proprietario dell'arma. È un 54enne del posto denunciato per omessa custodia di armi. Il fucile è stato posto sotto sequestro. Un cittadino straniero di 32 anni, residente nel Medio Friuli, è stato allontanato dalla casa familiare. Gli è stato notificato un divieto di avvicinamento nei confronti della giovane moglie per violenza sessuale. La donna si era rivolta ai carabinieri di Campoformi dopo diversi episodi di violenza e dopo aver chiesto la separazione dal coniuge. Adesso l'uomo non potrà più avvicinarsi a lei. Botta e risposta a Monfalcone tra il sindaco Cisinte e l'assessore Morsolin sull'edilizia privata e l'emergenza abitativa. E scontro a Monfalcone tra sindaco Cisinte ed ex assessore Morsolin che accusa l'amministrazione comunale di prendersi i meriti delle amministrazioni comunali precedenti. I fondi che rivendica come propri per la ristrutturazione degli alloggi Ater sono frutto di un lavoro intenso fatto a suo tempo dal Comune con il tavolo territoriale casa istituito dalla precedente amministrazione regionale e che ha portato a Monfalcone gli importanti investimenti di cui parla il sindaco, precisa Morsolin. Gravissimo inoltre che l'amministrazione abbia fatto bloccare le assegnazioni dell'ultimo bando Ater accusa il consigliere comunale constringendo così le famiglie in attesa di una casa a rimanere in una situazione di stale in una città ad alta tensione abitativa colpita duramente dalla crisi del mondo del lavoro a cui Cisinte al di là delle parole non ha saputo ancora dare risposte concrete. Dura la replica del sindaco sul tema della casa non accettiamo lezioni della giunta precedente dall'ex assessore Morsolin che aveva la responsabilità di quel settore 20 anni di abbandono della casa Mazzoli e 900 mila euro di danneggiamenti quantificati per il degrado subito dagli alloggi per il loro abbandono e la mancanza di manutenzioni sono i costi di un'eredità pesante che ci ha lasciato l'ex sindaco Altrane. Erano molti anni, prosegue Cisinte che il comune non interveniva in modo così rilevante nel campo dell'edilizia abitativa pubblica per oltre 3 milioni e mezzo ma soprattutto per rimuovere un muro di indifferenza nei confronti dei bisogni dei nostri concittadini più deboli. Il Museo del Mare di Grado, idea nata nel 1987 è ancora fermo al palo ma il comune non ci sta e diffida il ministero. E' una di quelle storie che tanto complicate rasentano l'assurdo. A tornare nell'occhio del ciclone il Museo del Mare di Grado struttura ministeriale per la quale oltre a vari milioni di investimenti si è discusso per decenni. Era il 1987 quando a seguito della scoperta tra le acque gradesi di una nave mercantile romana in seguito ribattezzata Iulia Felix si decise per la prima volta di istituire un luogo che conservasse non solo i reperti storici e archeologici ma che potesse anche diventare un centro di recupero. Anni di attesa promesse non mantenute e lettere senza alcuna risposta così l'amministrazione comunale gradese qualche giorno fa ha deciso di procedere legalmente contro il ministero affidando all'avvocato Francesco De Benedittis la causa. Si tratta di una misura che diffide il ministero e chiede formalmente di aprire la struttura entro un tempo massimo stabilito dall'amministrazione stessa se entro il tempo fissato il museo sarà ancora chiuso il comune considererà sciolto il contratto e riavrà l'edificio come stabilito anche dal codice civile un museo che doveva diventare un'attrattiva in più per il turismo culturale anche collegato con la vicina Aquileia con la quale tra l'altro da anni si stanno avviando progetti e collaborazioni culturali non ultima la rassegna dei presepi ma che da 27 anni invece un peso è in un non bel tassello per la diga gradese Parliamo ora di musica perché prenderà il via il 27 maggio a Lignano Sabbiadoro il tour 2019 di Vasco che per la terza volta ha scelto la località friulana per la data zero Vasco si esibirà a porte chiuse per il suo fan club domenica 26 mentre lunedì 27 i cancelli dello stadio Teghi si apriranno a tutto il pubblico per regalare una serata di grande musica e divertimento l'ufficialità è arrivata da Luca Tosolini Managing Director di FWG Music Live in occasione di una conferenza stampa con la partecipazione dell'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini e del vice sindaco della città di Lignano Sabbiadoro Alessandro Marosa Sembra incredibile ha dichiarato Luca Tosolini un anno dopo lo stesso giorno avremo nuovamente il piacere di vedere Vasco salire sul palco dello stadio Teghi i grandi eventi dal vivo ha dichiarato l'assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini sono una vetrina per la nostra regione un volano per la nostra economia e uno strumento importante di promozione per le nostre località il 6 luglio sarà la volta di Jova Beach Party e a breve sarà ufficializzato anche il nome del terzo artista in arrivo allo stadio Teghi che stando ad alcune indiscrezioni questa volta sarà straniero siamo così arrivati allo sport udinese la finestra di mercato invernale muove gli animi di chi è poco utilizzato in casa bianconera il riferimento è a Molla Vague il difensore maliano al quale viene preferito Trost e Kong il giocatore impiegato in questo primo scorcio di stagione solamente in due partite teme di perdere anche la nazionale e ha chiesto all'udinese di cederlo a titolo definitivo il mercato di riparazione agita agli animi in casa bianconera la squadra ha bisogno di rinforzi e Nicola ha evidenziato le necessità soprattutto per la difesa reparto che al momento ha una disponibilità di uomini molto limitata in seguito all'infortunio di Samir all'accessione di Pezzella e alle condizioni fisiche del neocquisto Ziklar se poi ci si mette pure il mal di pancia di Vague la situazione in vista del Parma si presenta davvero critica il maliano che in questa stagione è stato scavalcato nelle preferenze dall'olandese Trost e Kong arrivato sorpresa nell'ultimo giorno di mercato ha apertamente espresso il suo rammarico per la situazione che lo riguarda e alla società ha chiesto l'accessione in una intervista alla versione francese di foodmercato.net il difensore che a febbraio compirà 28 anni ha spiegato che il suo mancato utilizzo in bianco o nero rischia di costargli anche la nazionale in questa prima parte di campionato è stato impiegato interamente solo in due partite contro il Benevento in Coppa Italia e ad Empoli poi più nulla quello che mi dà fastidio è che mi è stato detto che si contava su di me non mi è andata giù sono un professionista serio ora spero di avere la possibilità di giocare altrove l'udinese condivide la soluzione di una successione che lui però vorrebbe a titolo definitivo società avvisata radar indirizzati su nuovi difensori è ancora udinese perché il portiere Simone Scufetta è volato in Turchia per cercare un accordo con il Casin Pasa la società frulana gli ha concesso il permesso di raggiungere il club di Istanbul che milita nella Super League per discutere i dettagli del contratto se in queste ore si perfezionerà l'accordo le firme sarebbero vicine si tratterà di un prestito secco fino a giugno classe 1996 prodotto del vivaio dell'udinese Scufetta esordito in Serie A giovanissimo a soli 18 anni divenendo punto fermo della formazione allenata allora da Francesco Guidolin nelle stagioni successive non ha più avuto la stessa brillantezza tra le esperienze prestito di un anno al Como e rientro in Friuli dove non ha più ritrovato la titolarità della Porta in pianta stabile quest'anno complice l'infortunio estivo del neoquisto argentino Musso aveva iniziato in maniera promettente ma il rientro del compagno di squadra l'ho relegato stabilmente in panchina siamo a rugby è finita 27 a 26 l'ultima partita del girone di andata per il rugby Udine che con questa vittoria contro il Petrarca Padova si allontana dalla zona retrocessione tanti errori per entrambe le squadre ma alla fine a spuntarla sono stati gli udinesi che hanno segnato 5 mette ha chiuso il girone di andata con una vittoria di prestigio al rugby Udine che sul campo di Ave del Maglio ha battuto il Petrarca Padova per 27 a 26 segnando 5 mette e portandosi a casa i punti bonus 5 anche i punti in classifica guadagnati che allontanano la squadra dalla zona retrocessione distante ora 7 lunghezze abbiamo iniziato molto bene segnando una meta a tutto campo con un bel gioco con la partecipazione da parte di tutti e poi abbiamo perso un po' il bandolo della matassa con il possesso e abbiamo subito il gioco del Petrarca però nonostante questo i ragazzi ci hanno creduto hanno giocato si sono adattati a quello che è successo in campo e sono riusciti a segnare i punti sufficienti per vincere la partita in chiusura un'ultima ora di cronaca un incidente tra un camion e un'auto si è verificato verso mezzogiorno tra Cividale e Remanzacco sulla statale 54 dopo l'urto il mezzo pesante dedicato al trasporto di materie prime è andato a sbattere contro la massicciata in muratura che costeggia la linea ferroviaria FUC molti i mattoni e gli inerti finiti sulle rotaie della società ferrovie Udine Cividale che ha dovuto sospendere la movimentazione dei pendolini il servizio di linea sarà interrotto fino a quando non sarà rimosso il tire e verificata l'agibilità dei binari secondo le procedure di sicurezza previste nel frattempo la società ha attivato un servizio sostitutivo con i bus che è possibile si protraga fino al tardo pomeriggio e per il momento è tutto io vi do appuntamento a Dopo la pubblicità con A voi la linea e per la pubblicità che ha dovuto sospendere un servizio sostitutivo che ha dovuto sospendere